Baldagno, un uomo di 64 anni residente a Monti di Malo, è stato arrestato per frutto aggravato dai carabinieri del nucleo radiomobile. È stato colto sul fatto dagli stessi militari mentre stava asportando il contenuto di una cassetta per l'elemosina all'interno della chiesa parrocchiale di San Quirico. Su di lui erano scattate le indagini a seguito di altri furti analoghi denunciati in precedenza. L'uomo già noto alle forze dell'ordine è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti e di numerosi attrezzi per lo scasso. La tecnica adottata è quella del nastro adesivo collegato ad una barretta metallica. Inoltre i militari operanti hanno deferito lo stesso uomo per un furto aggravato sempre all'interno di una chiesa in dato 8 giugno. Sono in corso ad accertamenti per verificare la corrispondenza del soggetto con furti che sono stati perpetrati nei contagi dei valdagno nel corso degli ultimi mesi. A riguardo si sottolinea l'importanza che i cittadini comunicano al 112 eventuali situazioni sospette e in caso di furti denunciano tempestivamente i furti subiti presso le stazioni dell'arma presenti sul territorio.